Bilancio positivo, quello conseguito dai carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, impegnati quotidianamente nel contrasto ad ogni forma di criminalità e legalità. Importanti infatti i risultati raggiunti nell'anno che sta per concludersi dalle 22 stazioni che hanno competenza giurisdizionale sui 52 comuni della provincia Pentra. 66 gli arresti eseguiti, oltre 1000 sono le persone denunciate in stato di libertà, 50 quelle proposte per l'applicazione di misure di prevenzione, centinaia e sequestri durante tutto il 2015, nel corso del quale si è rilevato un sostanziale calo complessivo dei reati che ha fatto registrare un significativo meno 20%. Dobbiamo sempre fare qualcosa di più, anche se già stiamo facendo molto, e questo ce lo dicono i risultati ottenuti, ce lo dicono i cittadini di Isernia che ci sono da sempre vicini, ma dobbiamo fare di più e meglio. Non dobbiamo accontentarci dei risultati conseguiti, come dicevo in conferenza vogliamo lavorare molto anche dal punto di vista della sicurezza partecipata. Organizzeremo una serie di incontri con le vittime più vulnerabili dei reati che possono essere ad esempio gli anziani che in passato sono state vittime di truffe. Io ho parlato già anche con il Vescovo di Isernia, Monsignor Camillo Cibotti che ci ha dato la sua piena disponibilità affinché questi incontri si possano svolgere anche all'interno delle parrocchie che sono in luoghi abitualmente frequentati dalle persone anziane. E poi vogliamo diffondere la cultura della sicurezza, alcuni furti in appartamento ad esempio potevano essere evitati magari chiamando più rapidamente il 112 o adottando delle piccole cautele che in alcuni casi non sono state adottate. Allora dobbiamo battere anche su quel settore oltre a potenziare ovviamente l'attività di prevenzione. Dunque un lavoro attento e minuzioso quello svolto dai carabinieri della provincia Pentra che tramite interventi di ordine pubblico garantiscono quotidianamente supporto e tutela al cittadino. L'obiettivo primario per il 2016 è quello di continuare sulla strada intrapresa cercando di contenere al massimo il fenomeno dei furti in special modo quelli in appartamento che pur mantenendosi sui livelli decisamente inferiori alla media nazionale costituiscono un obiettivo primario nella provincia di Isernia.